Si è deciso che sottoperemo queste questioni alla commissione competente della conferenza per poi poterci incontrare col nuovo ministro quando sarà insediato, proprio per chiedere questi chiarimenti che ho sollevato, che sono necessari. Da un lato il tema di chi arriva in Italia via terra, che oggi non è inserito nel sistema di ripartizione nazionale, e dall'altro lato il tema di come devono essere assistite le persone che hanno adesso un diniego nelle more delle procedure di rimpatrio. Chi si occupa di queste persone, chi finanzia, ma soprattutto come verrà organizzato anche il rimpatrio.